Eccoci qua, andiamo a vedere per la seconda parte di questo mini tutorial su come usare YouTube per imparare qualcosa sugli scacchi qualche altro video sempre relativo agli scacchi e ora vi faccio vedere cosa non vedere e soprattutto cosa vedere abbiamo visto l'altra volta un classico esempio di vedere le partite blitz per esempio di un mostro come Gary l'importante è vederle con la scacchiera, l'importante è vederle davanti quando voi vedete titoli tipo questo, top 7, top 7, scartateli, scartate tutte le aperture, lasciate stare guardate invece come giocano i grandi e cercate di indovinarle, questo è quello che abbiamo visto la volta scorsa c'è qualcos'altro? Vediamo, una cosa che fanno molti scarsi giocatori è quello di andare a cercare sempre il numero 1 ovvero sia Carson, trovate molti video di Carson in cui fa lo streaming sulle sue partite soprattutto a un minuto lasciate stare, un minuto non sono scacchi, anche per lui, anche a quel livello soprattutto Carson gioca in uno stile che per chiunque è troppo difficile va quasi sempre in finale, vince i finali e non spiega mai, non c'è nessun commento, per voi sarebbe una cosa assurda andiamo direttamente a vedere invece quello che io ritengo il numero 1 se dovete imparare qualcosa su youtube dagli scacchi con la scacchiera guardando qualcuno che gioca lampo e scordatevi il resto, consiglio dovete andare dal numero 1 e il numero 1 è lui il numero 1 dei commentatori il numero 1 ma compare Svidler il numero 1 a parte che seguendolo ormai dalla vita mi piace anche come persona ma comunque vantaggi è un grande maestro tra i primi 10 al mondo secondo me anche adesso ha uno stile che non è eccessivamente aggressivo come Casparov uno stile più contenuto diciamo ma sempre aggressivo fate gli streaming per CES24 che ritrovate su youtube gratuitamente magari qualche giorno dopo si mette a spiegare quello che sta facendo e soprattutto può giocare contro chiunque anche contro lo scarsone da 2002-2003 per lui è scarsone quindi vediamo ad esempio la sua partita passiamo un po' avanti in questo caso sta vediamo un attimo l'audio anche perché per adesso ci interessa poco sta giocando contro un 2620 lui qua c'ha 2009 ma ricordatevi sempre perché siccome passa il tempo a spiegare mentre gioca magari qualcosa la lascia per strada non è facile affatto spiegare mentre si gioca stesso sistema di prima si blocca la partita scacchiera davanti e si cerca di indovinare cosa giocheranno i nostri avversari in questo caso stiamo vedendo quella che era iniziata con una Benoni è diventata una variante semisce dell'est indiana cui lui ha deciso di farla diventare una variante semisce a proposito lui è un grande giocatore di difesa indiana quindi magari imparerete qualcosa sulla difesa indiana ma non è un tipo di giocatore che usa il centro classico questo ricordatevelo sempre quindi incredibile a proposito come lui mentre gioca non so come faccia a muovere i pezzi perché questo braccio non gli si muove mai e vi assicuro che pure che è in diretta vabbè vediamo l'avversario dovrebbe giocare cavallo in e2 e invece no anche lui dice che non è sicuro di alfiere e3 chiunque gioca qua cavallo in e2 con l'idea g4 cavallo g3 ma comunque vediamo in molte varianti questo può essere un vantaggio per il nero perché se rientrate in una specie di benoni in cui l'alfiere e3 qua quasi sospeso può dare qualche iniziativa al nero vediamo tutto chiaro Ragazzi, l'inglese dovrebbe essere matematico Cominciate a pensare alla terza lingua perché sennò in questo mondo non potete campare E comunque lui essendo un russo che parla inglese, parla un inglese abbastanza facile da capire Qua stava spiegando i due piani che c'ha a disposizione fra un cavallo H5 o un rottura al centro O una specie di cavallo D7 con un cavallo B6 Ora vedremo Quindi lui è abbastanza avanti nella teoria con la classica variante con cavallo E2 Questa non la conosce tanto, andrà a giocare un po' ad occhio Ok, sta dicendo di giocare il piano più lento Che è tematico della Benoni, ovvero sia fare cavallo A6, cavallo C7, A6, B5 Magari sostituito dalla torre B8 con l'idea di spingere in B5 Su un eventuale A4 del bianco, quasi forzata, si gioca cavallo C7 Magari alfiere D7, A6, se A5, poi si fa cavallo B5 Con l'idea di fare cavallo per B5, alfiere B5, alfiere B5, A per B5 Si ottiene più o meno la stessa cosa Anzi, con questo prodotto è magari avanzato Yeah, the whole Aussie story is extremely confusing to me Vabbè, qua va a parlare di una vicenda di cricket Cavaggio è parte del mondo italico, sicuramente non sa Vediamo di andare un po' avanti veloce Notate come a questo livello lui non pensa le mosse Lui gioca matematico perché già ha tutto il setup in test di come giocare Ok, abbiamo raggiunto la posizione che avevo immaginato poco prima Qua il nero chiaramente spingere in B5 subito non conviene Però non in questa situazione perché eventuale ripresa, ripresa Anche se si fa pressione su questo pedone, questo qua rimane un po' sospeso La cosa importante di questa posizione è cercare di togliere questo al bianco L'alfiere che tiene tutta la baracca per il bianco Come vedete la posizione dei pedoni lasciano tutte le case scure deboli Perché i pedoni come vedi su casa bianca controllano le case bianche Le case scure non le controlla nessuno Senza quest'alfiere che copre diciamo queste tare La posizione del bianco sarebbe veramente uno schifo Quindi io immagino che lui non vorrà spingere subito in B5 Ma farà il piano che dico io con cavallo B5 Presa, 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 presa di A per B Se il bianco non cattura in B5 subito Allora cavallo D4 è importante Perché anche se sacrifica un pedone Leva questo fortissimo alfiere E questo diventa una bestia Avete notato Istantanea cavallo D4 Non gli ne frega niente se sacrifica un pedone Fermiamo un attimo mentre lui parla di cricket Allora normalmente qua si dovrebbe fare cavallo G4 Cavallo controlla queste due case deboli L'alfiere controlla quest'ultima casa La donna si toglie L'idea sarebbe una bellissima alfiere D4 E poi cavallo F2 La donna in B6 non può fare scacco perché c'è questo pedone Io ho una mezza deuccia di cosa lui potrebbe fare a questo punto Potrebbe Secondo me Spingere in B5 adesso Perché su A per B Allora si cavallo G4 E poi prendiamo qua di donna Se invece non prende E' riuscito a fare la famosa spinta B5 Nel caso c'è compenso sulle case nere E poi segue Magari B4 E sempre c'è un bel compenso Fondamentalmente il pedone l'ha dato Sta dicendo quello che ho detto io In pratica We'll have dark squared compensation I'll just I mean cricket is an interesting topic And that was the first thing I've seen in chat So I will speak about cricket for a bit Yeah Because of all the Let's say Ecco Questo è La presa per bida Partire Bianco Secondo me è una fesseria Vabbunque Vediamo The amount of stuff That was said During the Ashes About the drinking culture In the England squad And all that People are obviously Now having a ton of fun Discussing this story Because Glass houses And stones And so on It's not exactly Schadenfreude It's just a feeling That You know Premiamo un attimo la posizione, anche qua io lo faccio molto veloce, ma voi dovreste pensare, pensare, pensare Il nero ha una qualità in più di un chiaro vantaggio, però il bianco magari mangiando questo pedone potrebbe avere due pedoni passati Potrebbe dare fastidio, qua la chiave è il controgioco, soprattutto verso tutto quello che c'è su case nere, su questo pedone Magari si potrebbe ipotizzare per esempio un torre per B2, torna per B2, alfiere per C3, torna per C3 Se non ci fosse questo cavallo, mangeremmo in E2, oppure il fatto che c'è la prima debole Si potrebbe anche fare, per esempio, torre di F in C8, se mangia in D6 ci potrebbe essere torre per B2 sempre In effetti non può mangiare in D6 perché poi c'è alfiere per C3, anzi ci può essere alfiere per C3 subito perché poi c'è torre B1 Torre F in C8 There is some kind of cosmic justice in this happening And yeah, this was a nice little bit of tactic AB9G4 and I think my opponent kind of ignored it a little bit too easily And I should be close to winning here I will return to chess after this, you know I mean, for me as an England supporter, I can't say I am, you know, horribly distraught at the news from South Africa Ah, interesting idea, but I don't think he has enough control over the dark squares here for 94 to be particularly threatening for me As Jan and Nelly come in. Has Nelly made her appearance on the stream yet? No Yeah, let's do that, yeah Nelly will be the absolute superstar here Ah, that's my quote-unquote key Is that how the stream looks? No, no, that's not how the stream looks. The stream looks perfectly fine Ok I made the disclaimer that I will be, I can't actually, I missed the entire previous game and I'm missing this one as well because I I'm still sadly enough, I'm still pagan Vabbè, mentre lui si imbarazza là con l'amico Jan, altro grande maestro tedesco Con la figlia, il bianco è collassato completamente e la partita è già finita Intention to do the chess instead of watching the incredibly exciting playoffs All right Yeah, so Nelly came and opened the door for me, which is, which is awesome And yeah, very grateful to Jan and Nelly Bye Yeah, and once again apologies for the late start And I already apologized profusely to Jan and Yeah, that wasn't ideal, but I honestly tried opening that door before calling in the reinforcements Come Come ha scritto Andrea del gruppo E' chiaro che io non posso fare altro che consigliare di analizzare una scacchiera davanti Posso anche consigliare i migliori metodi del mondo ma alla fine Per migliorare ci vuole il duro lavoro Ci vogliono ore e ore su una scacchiera A pensare, pensare, pensare Se pensate che migliorare Sia un gioco, una cosa facile Avete sbagliato Se pensate che gli scacchi siano un gioco facile Avete sbagliato Se pensate che qualcuno è diventato maestro così Per dono dal cielo Vi sbagliate Il talento può aiutare ma fondamentalmente c'è un sacco di ore sulla scacchiera dietro E quando vedete un maestro, per non parlare di quelli ancora più forti Immaginate che quelle sono persone che hanno passato giorni, giorni, settimane a studiare Mentre voi magari facevate altro Quindi le cose non cascano dal cielo Ci può essere un vantaggio Ci può essere qualcuno che fin da piccolo è stato seguito Che l'ha fatto come un gioco E' diventato maestro così Verso i dieci Ma ci sono sempre degli investimenti, dei sacrifici e del tempo Vi si può spiegare il sistema Ma ad ogni caso ci vuole il tempo Una scacchiera e tanta, tanta, tanta Riflessione dietro Studiare e pensare In continuazione Uno come questo Campione russo non so più quante volte Tra i primi giocatori al mondo Sì, a 14 anni Già era fortissimo, non c'è dubbio Sì, veniva da una nazione All'inizio di scacchi che è un altro pianeta rispetto all'Italia Tutto quello che volete Però Questo ha fatto diventare la sua professione Ha passato tutta la sua vita Durante una scacchiera Ed è diventato Fra i migliori Nella sua professione Quanti di voi possono dire lo stesso Tutti bravi Siamo sì Io voglio divertirmi Il cinema La ragazza Di qua dirà Ma se volete migliorare in un qualcosa Fosse anche un hobby Ci vuole Tantissimo studio E sacrificio Altrimenti Nisba I should have maybe talked about the previous game a little bit But yeah It's going to be a bit hectic Before I get settled People were demanding gambits Scotch is not exactly a gambit But it's a First bishop takes d4 And then rook takes f3 Where? I did not really understand that reference Nellie a toddler And already in a SWOT team What am I doing with my life? Good question You should always ask yourself that Gasbob Let me check Maybe I can understand The Bishop takes d4 Rook takes f3 Because I honestly couldn't figure out Which position L'avate pensata Torna g4 Profittando del fatto Che l'alfiere Camposcuro Si fosse tolto prematuramente Lasciate stare Se la sapete a memoria Loro lo sapete a memoria Voi no L'avate pensata O avete pensato Il classico sviluppo Alfiere c4 Cavalle 2 Qualcosa del genere Per fare al rocco Eh Questo vi doveste chiedere Pensate You were suggesting it in Can you maybe give me A white move This is in reply to Yeah Nellie Nellie Yeah Trump's Peter Trump's Chad FeelsBadman Nellie Nellie is the absolute superstar There were some questions Regarding Karakin And And seconds And Yeah The black books Are The Yeah The Vodaviusiusi Schokhmatist Amira And Is my opponent Actually pausing For this match Or is The stream hanging No I think He Yeah He made a reply Of some sort Ok Su donna f6 Lui ha giocato Istantanamente Donna g3 Lo so È troppo veloce Questo sì Perché Seguente Si spaventava D la spinta D5 Con attacco Ora Presa 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 Pensate Si Po fare This is a kind Of a gambit Because black Can actually Take on D4 Here If he wants But I don't Think it's great I'm trying to figure out If I'm hallucinating Or if I've seen This QG4 QG3 idea Somewhere It doesn't feel Right somehow But Maybe I'm not Hallucinating It's very difficult To tell these days Whether Things I think I've seen Played by Good players Are just Me having Some kind Of a breakdown Or are they Actual things I've seen People play Will Magnus Take Karakin Seriously If Karakin Wins I don't think Magnus Took him Very Non-seriously The previous Time To be honest I think What is Possible Is that Magnus Having played A long match Against Karakin Will have A better Idea Of how To How to Deal with The challenges That Karakin Presents As a chess Player But I don't Think it's A matter Of him Not taking Sergey Seriously The previous Time I don't Really have Anything At all Here With White Quite Clearly But The position Is still Somewhat Playable Spero Capiate Tutti Quello Che dice I would Have Started With Rook B8 In My Opponent Shoes Because I Think If He Goes Rook B8 Here I Can Play B2 B3 And With A Bishop On B6 And A Bishop On E3 Still Alive He Would Have The Queen Take C3 Ideas So I Think It Was In Terms Of Making My Life A Lot More Awkward E Chiaro Quello Che Ha Detto In Pratica Il Nero Sbagliato A Prendere In E3 Perché Avrebbe Duto Giocare Prima Torre B8 Costringendo Il Bianco A Fare B3 Ma Non Poteva Fare B3 Perché La Donna Avrebbe Catturato In C3 Perché C C Interpolazione L'Alfiere Sono No Nobody Is Writing Anybody Off I Think It's A Very Open Open Competition Right Now Madly But Once Again Just As Because We're Not Giving Any Odds Just As We Were Saying That And I Actually Missed A Very Interesting Opportunity Here But I Probably Will Have It On The Next Move As Well And Just As I Say That The Opportunity Gets Taken Away From Me I Could Have I Can Still Play A Version Of It Here But It's Less Attractive I Will Start With Bishop D3 But I Would Very Much Like To Go Basically With The Bishop On C8 If I Go E5 D5 F5 If Black Plays Nf4 Which Is The Move He Wants To Make I Can Take On F4 And The Rook On The Eight Will Be Hanging And I Am Now On The E File And If Black Doesn't Make Some Kind Of A Loof I Still Have The Same Tactic Available To Me I Covered The Cricket Thing Up To Now Already And I Don't Think I Should Be Doing It Like For The Entire Stream Doesn't Feel Right How Does Much How Does Computer Hardware Matter In Candidate Preparation Well Obviously A Great Deal In Fact I Think Black Shouldn't Take I Think This Is A Mistake Actually I Think I Am Now Doing Very Very Well And This Is The Tactic I Kept On Talking About And Now Luckily For All Of Us I Can Actually Demonstrate It On The Spinte I E E 5 P F F 5 Con Controllo Di Questa Casa Il Cavallo Sarebbe Dove Andarse Da Qualche Parte Tipo E 7 Ma A Quel Punto La Semplici Alfie R4 E Poi Cavallo E 4 Massacro Sarebbe Stato Vabbè Ragazzi Spero Che Abbiate Capito Il Senso Della Cosa Qua Ci Sono Due Ore Di Video Moltiplicate Tutti I Video Che Fa Avreste Di Che Studiare Per Non So Quanto Tempo Ma Se Non Ci Mettete Del Vostro È Tutto Inutile Baci E Serenità